Mi chiamo Rosanna Zingaro, sono italiana e vivo in Svizzera da oltre 30 anni. Mi chiamo Sabino Zingaro, sono italiano e vivo in Svizzera da più di 40 anni. Grazie a Forever perché ci dà una bellissima opportunità di girare il mondo, di girare anche la nazione svizzera. Siamo qui in questo bellissimo hotel dove stiamo bevendo un bel bicchier di vino. Circa 14 anni fa abbiamo conosciuto Forever, ci ha cambiato completamente la nostra vita. Quello che ci fa sorridere è il fatto di aver potuto aiutare i nostri genitori a raggiungere anche loro un livello finanziario sicuro per la loro vecchiaia. E questo è quello che ci fa sorridere. Grazie a tutti.